Ciao a tutti, in questo dicembre 2020 è uscito Criminal, il nuovo manuale di criminologia, ma definirlo solo manuale di criminologia probabilmente riduttivo perché all'interno, oltre 600 pagine, noi abbiamo anche dei contributi che riguardano altre discipline, dalla criminalistica, alla investigazione, all'intelligence e alla sicurezza. Il manuale è un'opera sostanzialmente imponente, così come è stata definita ad una prima lettura dal professor Sidoti, inoltre ha il vantaggio scientifico di avere una prefazione di un personaggio, di una persona autorevole nel campo della criminologia che è il professor Francesco Bruno. I preziosi contributi sono di Alessandra Batellillo, Luigi Bisogno, Federica Candelise, Sabatino Coluccia, Francesco Esposito, Roberto Lazzari, Giuseppe Lodeserto, Marco Magliozzi, Federica Perrucci e Amira Radulescu. Ho un po' radunato degli esperti che provengono da più settori e rappresenta una vera opera che ha appunto questi contributi che provengono da più parti d'Italia e non solo d'Italia. Ora, il manuale è un manuale che va al di là delle semplici argomentazioni che riguardano la criminologia o l'investigazione è stato suddiviso in delle sezioni. Abbiamo una sezione di criminologia in cui abbiamo capitoli importanti quali l'antropologia criminale, ma anche l'analisi della scena del crimine, così come il moderno profiling, la vittimologia, i sex crime, i delitti di famiglia. O altri capitoli storici da un certo punto di vista, come per esempio gli elementi di medicina legale e di forensic pathology. La parte di criminalistica parte dalla bloodstain pattern analysis per poi soffermarsi anche sull'entomologia forense, la mobile forensic e anche e soprattutto su aspetti importanti della criminalistica che devono essere affrontati in un'ottica ovviamente specialistica che sono la datiloscopia, la grafologia, la balistica. Oltre a questi capitoli abbiamo anche inserito la tossicologia forense. Abbiamo poi la sezione investigazione in cui si parte dalla raccolta di notizie perché è fondamentale per il moderno investigatore, ma va al di là perché poi si parla anche di interrogatorio, di psicologia della testimonianza, del sistema FACS, Facial Action Coding System, che è uno strumento importante per analizzare le informazioni ma anche l'attendibilità, quindi in un'ottica sempre di investigazione di sicurezza e poi abbiamo inserito anche il crime mapping, quindi la mappatura del crimine. Una sezione di intelligence perché ormai l'intelligence è una materia molto democratica ed è molto strategica nei nostri settori e quindi si parte da un po' di storia dell'intelligence fino alle investigazioni digitali, all'open source intelligence e all'elicitazione che è una parte importante come strategie che fa parte della competitive intelligence. La sezione sicurezza perché il moderno esperto di criminologia, investigazione e sicurezza e il moderno profiler anche, o se vogliamo il moderno investigatore, si deve occupare anche di sicurezza e quindi dei capitoli che riguardano la psicologia del rischio e della sicurezza, la gestione dello stress in caso di situazioni particolari, l'applicazione dei droni nell'ambito della sicurezza urbana. Inoltre anche un settore importante, moderno se vogliamo, di cui può occuparsi il criminologo è l'esperto di criminologia che è quello della security aziendale. Bene, oltre 600 pagine intrise di argomenti molto molto affascinanti che riguardano le discipline criminologiche, edizione sempre Primicieri che ancora una volta ringrazio insieme agli autori e agli amici che hanno contribuito a questa importante opera. Criminal è già disponibile, potete acquistarlo direttamente dal sito di Primicieri Editore o pian piano verrà distribuito comunque nelle diverse zone d'Italia. Ciao e a presto.